allora salve a tutti cari amici sono sempre il ricercatore emiliano babilonia voglio ricordare il mio nuovo account pubblico su facebook oppure su messenger emiliano babilonia italia tutte le persone che mi chiederanno l'amicizia saranno accettate l'unica cosa che chiedo che i vostri account siano perlomeno attendibili perché molte persone mi scrivono con degli account sono pincopallino e poi mi chiedono l'amicizia e poi spariscono totalmente nel nulla quindi io darò l'amicizia alle persone che poi interreranno a far parte del nostro gruppo gli aiuti di ricerca nello stesso tempo potranno anche interagire con me se sono dei target individuals che potranno eventualmente fare un'intervista testimonianze anche anonima solo audio sui miei canali di youtube relativi agli attacchi alle manipolazioni del controllo mentale del sistema mk ultra del sistema manchurian candidate oppure del sistema del manipolazione radiocognitiva attraverso queste armi radio satellitari voglio ricordare la mia email vittime del controllo neurale chiocciola gmail.com la mia radio web emiliano babilonia spriche la mia seconda radio web emiliano babilonia mix cloud il mio primo canale youtube angeli custodi mk ultra italia scrivetevi mettete e pigiate la campanella il mio secondo canale di youtube emiliano babilonia c'è l'occhio nero l'occhio circondato di nero perché ho un altro account emiliano babilonia ma quello è praticamente fermo bloccato quindi prima stavo facendo una diretta streaming su youtube ma miracolosamente all'improvviso come stavo parlando di alcune delucidazioni tecniche sulla cuffia infrasonica che sto progettando attestando io di persona qualcosa è andato storto si è interrotta la linea internet del wifi cioè praticamente si è proprio collegato il mio computer dalla rete wifi ma non scollegato perché il segnale non lo prende come se qualcuno entra nel mio pc e blocca manualmente la linea dati e la rete ovviamente crolla youtube non ha più la possibilità di accedere ai dati della diretta streaming e quindi blocca definitivamente il mio video in diretta quindi adesso io lo registro e poi lo pubblico sul mio canale di youtube angeli gusto mk ultra italia allora l'altro giorno ho fatto un video e ho fatto vedere la cuffia che avevo progettato e che avevo montato ma attraverso le analisi tecniche e attraverso i test che ho fatto ho notato che c'erano delle frequenze interferenze che provenivano dall'esterno che non andavano bene per determinati tipi di analisi che io devo fare per captare le frequenze delle voci o dei suoni che vengono sparati all'interno dei condotti uditivi all'interno del cervello dei target individuals degli uditori di voci che vengono ovviamente definiti pazzi o malattie di mente o con bipolarismo o con schizofrenia ma in realtà sono frequenze che vengono sparate attraverso tecnologie di controllo e di manipolazione da agenzie deviate sovra istituzionali che immettono delle frasi delle voci effettuando lavaggi del cervello interrogatori continui o minacce continue con frasi offensive alle vittime che si risvegliano dallo stato di controllo e spionaggio effettuato da agenzie deviate che sono in realtà medici militari mercenari che sperimentano e collaudano le frequenze degli armamenti radiosatellitari o le frequenze delle tecnologie di controllo e spionaggio che vengono utilizzate sulla popolazione italiana e sui target individuals ovviamente per il territorio nazionale italiano poi c'è il territorio europeo e il territorio mondiale quando ho fatto il primo test di questa cuffia mi sono accorto che la schermatura interna era troppo sottile e il materiale insonorizzante andava bene per determinate analisi ma non per altre quindi o trovo una soluzione per schermare attraverso le frequenze elettromagnetiche che penetrano all'interno di questi due patiglioni utitivi oppure utilizzerò un altro tipo di coffia perché la schermatura può essere fatta sia all'esterno che all'interno con determinati tessuti antiradiazioni in più i microfoni stereo che uno doveva andare un paviglione nell'altro dell'altro paviglione per creare il canale destro e sinistro molte volte mi fanno dimenticare determinate parole tecniche e devo raggirare la frase tecnica per farvi capire in maniera semplice il mio concetto lo stato di progettazione di questa cuffia perché coloro che operano con le altre tecnologie attraverso i canali deviati dai laboratori dei servizi segreti militari creano dei stati di perdita di memoria temporanea a noi vittime del controllo mentale o ci fanno sbagliare dei verbi degli aggettivi delle parole ci fanno dimenticare delle frasi o ci fanno dimenticare di alcuni nomi tecnici e scientifici di determinati tipi di argomentazioni o strumentazioni o nostre ricerche che facciamo quotidianamente perché ovviamente ci vogliono far sembrare malati di mente pazzi o schizofrenici ma in realtà noi che siamo vittime del controllo mentale che rileviamo il sistema di spionaggio valiamo tantissimo perché siamo in grado di rilevare una tecnologia di oltre 100 miliardi di euro di spionaggio satellitare di tutta la popolazione nazionale italiana allora dopo che stavo facendo questi test mi sono accorto che alcune frequenze entravano all'interno dei padiglioni e sono frequenze provenienti dall'esterno quindi se io devo fare un'analisi per i campi elettromagnetici queste cuffie andrebbero bene ma se devo fare un'analisi per registrare i suoni delle voci che si sentono all'interno della stanza o che passano attraverso i muri e entrano nei padiglioni utitivi del target individual che dice sono i vicini di casa li sento perfettamente sono i parenti li sento perfettamente quello quell'altro quell'altra ancora che mi parlano in testa li sento perfettamente con queste cuffie si può registrare tutto quello che entra all'interno dei vostri condotti utitivi perché verranno inseriti due microfoni stereofonici uno lato destro uno lato sinistro e poi verranno inseriti due altoparlantini uno lato destro uno lato sinistro per effettuare dei test di analisi e di con l'auto all'interno della sala all'interno della stanza all'interno dell'abitazione dove non dobbiamo fare questo test per quale motivo dico questo perché ci sono molti ciarlatani che dicono di essere professori che dicono di essere ingegneri che dicono di essere laureati a destra e a sinistra i quali là non fanno niente e vanno a rubare le mie ricerche vanno a rubare le mie le mie invenzioni le mie analisi e tantissime altre cose e poi cambiano il loro discorso e fanno credere che praticamente sono delle loro teorie delle loro invenzioni ma in realtà non è così i stati di progettazione di questo di questo sistema di questa cuffia e di altre progettazioni analisi tecniche e altre stanze insonorizzato stanze schermate sono delle mie progettazioni e delle mie creazioni già dal 2003 che io stavo progettando questi sistemi per creare la progettazione di case antirradiazioni per tutelare ovviamente le vittime del controllo mentale che vengono attaccate con queste armi e con queste tecnologie per tutelare anche gli elettrosensibili che in realtà potrebbero essere vittime del controllo mentale irradiate con frequenza d'onde convogliate che creano queste patologie e magari gli fanno credere invece di essere malatteremente mazioschizofrenici di essere degli elettrosensibili o a molte persone gli fanno sentire le voci in testa e gli dicono a siete schizofrenici sentite siete uditori di voci ma in realtà sono sempre vittime del controllo mentale attaccato a queste armi o queste frequenze come ultimamente si sentono che molte vittime vengono attaccate con le stesse identiche tecnologie dei target individuals che già esistono dagli anni 70 80 90 che veniva attaccato nel 2001 con la stessa identica modalità di attacco e manipolazione delle persone che vengono attaccate adesso e che dicono che è il 5g che gli sta creando queste patologie ma in realtà sono le armi di energia diretta d'onde convogliate che sparano nei loro cervelli nei loro centri nervosi nei loro condotti uditivi attraverso le frequenze biofotoniche all'interno degli occhi determinate frequenze per creare la destabilizzazione e patologie diretta all'interno dei centri nervosi io avevo già detto tanto tempo fa di utilizzare delle semplici cuffie insonorizzate occhiali polarizzati e stare in posti all'aperto lontano da ogni campo elettromagnetico e di utilizzare solamente un farmaco che non ha effetti collaterali mezza valeriana cromo la sera per tot giorni e fare poi dei test con queste cuffie con gli occhiali in continuazione per vedere se cambiavano determinate frequenze se loro si rilassavano attraverso questo tipo di trattamento ci sono delle persone che hanno detto ho fatto il test ma quante volte l'hai fatto 5 minuti e poi ho levato tutto tanto non cambiava niente non ho detto 5 minuti ho detto di fare questo test per una settimana 15 giorni o addirittura un mese di seguito e dopo un mese vedere i risultati ma tanta gente non capisce 5 minuti e non è cambiato niente purtroppo non funziona così ci sono molte vittime del controllo mentale che dicono di essere esperti ma in realtà non ci capiscono niente e si basano solo su alcuni link che gli vengono mandati da altre vittime controllo mentale che non ce ne capiscono niente e che seguono determinati guru o finti guru del web che gli fanno credere che le loro soluzioni hanno salvato tantissime persone ma in realtà non salvano proprio nessuno l'unica cosa che salvano e queste persone devono cacciare un sacco di soldi per essere seguite da questi famigerati guru non noi abbiamo solamente chiesto alle vittime controllo mentale di associarsi alla nostra associazione di roma e di entrare a far parte del gruppo di ricerca del gruppo di aiuto e non credo che 3 euro e 30 al mese possa far arricchire l'associazione o possa impoverire la vittima del controllo mentale con 3 euro e 30 al mese addirittura ci hanno accusato di guadagnare sulle vittime pensate 3 euro e 30 al mese come guadagniamo noi sulle vittime e ci sono associazioni che ti creano che ti chiedono 10 euro al mese tutti i mesi gli dovete dare e non fanno niente noi 3 euro e 30 per tenere i canali di youtube in piedi ricerche analisi radio web conti correnti di tutto e di più e la gente si lamenta che dicono che noi non facciamo niente però quando io vi dico a queste persone ma fatemi vedere quello che fate voi ah io non ho tempo ah non avete tempo e noi ci facciamo un mazzo così andiamo grato in televisione da tutte le parti per far capire alle persone che vengono attaccate con queste armi o con queste tecnologie di stare tranquilli di non fare colpi di testa anomali perché se no li prendono e li chiudono in tso tanti l'hanno capito e si sono salvati tanti purtroppo non hanno voluto capire o tanti non sono riusciti a contattare i nostri gruppi e praticamente sono veniti in tso però chi ha incominciato a seguire i nostri gruppi che ha incominciato ad ascoltare le interviste testimonianza delle vittime sia sulla mia radio web che sia sul mio canale di youtube angelicustodmk voltitalia oppure su emiliano babilonia hanno incominciato a capire che tutte le patologie gli attacchi le manipolazioni vengono fatte anche a moltissime altre persone moltissime altre vittime che loro non conoscono e che praticamente io non potevo sapere degli attacchi le manipolazioni che facevano o che fanno a questi questi nuovi target individuals che entrano nel mondo parallelo perché io non conoscendoli non potevo sapere che cosa gli succede e allora loro mi dicono io ho ascoltato le altre interviste testimonianza sono le stesse cose che mi fanno a me perché il programma è identico spiccicato per tutti non che sono ogni situazione è singola ogni tortura è singola non è così non è così solo il vostro ragionamento è differente tra una vittima e l'altra perché c'è chi crede ai diavoli c'è chi crede che sono gli alieni c'è chi crede che sono i demoni di satano l'esercito di satano le religioni satana c'è chi crede che sono i santi i morti eccetera eccetera c'è chi crede che sono i vicini di casa perché purtroppo la capacità di ragionamento da logico diventa logico e noi ci abbiamo addirittura delle vittime che sono andate a portare le denunce che hanno denunciato che era il presidente della repubblica che gli attaccava con queste frequenze perché loro sentivano perfettamente la voce del presidente della repubblica che diceva attaccatela 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 sparate di queste frequenze sul corpo cioè ma come si fa a credere una cosa del genere sono frequenze simulate voci simulate timbri di voci fatti attraverso delle imitazioni digitali cronate che vi fanno credere che è quella persona quell'altro quell'altro magari sono voci che assomigliano a quel parente a quell'amico o quel personaggio famoso e voi credete che sia così perché molte vittime al controllo mentale veramente non sono proprio in grado di intendere e di volere che serve non un aiuto del supporto del supporto di aiuto di Emiliano Babilona lì che serve proprio un vadante che serve proprio un accompagno che serve una persona per essere presa e portata in determinati in determinati posti perché non è possibile che non arrivate a capire che non sono questi personaggi famosi che vattaccano queste tecnologie ma che sono voci simulate e voi non capite questa cosa allora questa cuffia ho fatto i primi test ho fatto le prime analisi e per adesso non va bene o trovo delle schermature ai campi elettromagnetici che verranno fatte all'interno o all'esterno di questa cuffia perché i suoni che verranno immessi all'interno degli altoparlanti e i suoni che dovranno essere registrati dai microfoni devono essere suoni molto realistici e molto affidabili perché io non creo il suono che non si sente niente si deve capire bene se vi stanno parlando i vicini di casa e se vi stanno dicendo delle frasi sparate all'interno dei vostri condotti uditivi uno seconda cosa il vostro condotto uditivo sarà collegato diretto a un centimetro di distanza da un microfono tutto quello che entra nel vostro padiglione uditivo verrà registrato quindi se una persona parla all'interno della stanza e dice allora stai sentendo queste frequenze stai sentendo che io parlo stai sentendo queste voci stai sentendo questi suoni e una persona dice sì oppure dice no tutto verrà registrato dall'audio e dai microfoni di questa cuffia allora se riesco a trovare delle i materiali insonorizzanti o materiali che vanno bene per il collaudo di questo tipo di strumento che sto progettando io si chiama cuffia sonica che dovrà ovviamente fare dei test audio vestibolari e dovrà fare dei test con delle frequenze sonore primarie allora li potrò dopo aver fatto dei testi dopo averla attestata su me stesso e dopo aver fatto determinate prove anche con determinate vittime che collaborano con me veri collaboratori no persone volta faccia persone tratitori che prima hanno detto che volevano collaborare con me poi sono si sono praticamente inidiati all'interno di determinati gruppi hanno preso le vittime dai miei gruppi e si sono creati dei gruppi loro stanno andando a dire in giro a tutte le parti loro c'hanno i microchip in testa che sono tutti pieni nei microchip e non si vede niente non c'hanno nessun microchip dal 1970 che non usano più i microchip neurali non il rifid il rifid è un microchip che serve per l'identificazione dell'individuo non manipolare frequenze cerebrali quello serve solamente come un codice fiscale basta è come quello lì che c'hanno i cani non servono a niente il microchip neurali deve essere impiantato dentro il cervello e minimo è un centimetro per un centimetro la gente dice nano chip nano chip nano chip io nel 2001 veniva attaccato con gli satelliti di spia con le armi alle regge dirette ad onde convogliate non c'avevo il microchip e il microchip non ce l'ho neanche tuttora dopo che ho fatto analisi lastre eccetera eccetera quindi non andate a inventarvi c'ho il microchip in testa c'ho la malta dentro i denti mi hanno messo qualcosa dentro i denti qualche chip dentro i denti perché sono solamente bufale che vengono messe sulla rete per far credere a determinate persone che loro hanno scoperto tutto addirittura una persona ha fatto vedere le fotografie del microchip poi siamo andati a vedere che cos'era era un diodo zener che avevano tagliato per far credere che quella era l'antenna che trasmetteva all'interno del cervello i buffoni della rete che rovinano le vittime del controllo mentale che fanno ammalare le persone perché gli fanno credere che c'hanno i microchip in testa ma in realtà non c'hanno proprio niente usano modulazioni di frequenza che lavorano con le stesse frequenze della risonanza di schumann con le stesse frequenze delle patologie e dei campi della risonanza sensoriale del nostro cervello in realtà sono frequenze celebrare allora che cosa è successo dopo che ho fatto i test ho provato la seconda mia cuffia insonorizzata questa è una cuffia insonorizzata professionale che costa molto di più di quest'altra cuffia che è molto semplice questa costerà dai 5 10 euro questa costerà dai 10 15 euro fino ai 30 euro però la consistenza si vede se voi sentite perfettamente questa è plastichetta è una plastica da circa 3 mm e invece questa è una plastica da oltre mezzo centimetro sentite la consistenza già insonorizzata la cassa esterna e ovviamente c'è pure la cassa interna che è abbastanza insonorizzata pensate che ho levato già tutti i materiali fonoassorbenti sia da questa che da quest'altra per poter vedere per poter vedere tutte le strumentazioni che devono entrare all'interno di questi alloggi perché all'interno di questi alloggi delle cuffie devono entrare materiale insonorizzate antiradiazioni che è la prima cosa principale devono entrare la spugna con l'assorbente perché noi dobbiamo all'interno ovviamente dobbiamo accutire totalmente i suoni provenienti dall'esterno all'interno dei condotti uditivi del target che ti individua che sente le voci che dice sono vicini di casa sono vicini di casa ma non sono vicini di casa per farvi capire che questo è un test per farvi capire che sono allucinazioni audiovisive attraverso la narcolessia indotta che loro vi creano nei stati di sonnambulismo che vi creano durante la notte cioè praticamente non arrivate mai alla fase REM e voi state sempre in dormiveglia passano mesi crollate fisicamente e psicologicamente e celebramente perché non riuscite più a riposare e loro vi mettono queste allucinazioni sparate all'interno della testa che vengono definiti dai medici come sintomi di schizofrenia bipolarismo eccetera eccetera ma in realtà non è così sono programmi di controllo e manipolazione con attacco con arma di energia diretta sparata all'interno dei centri nervosi centrali allora che cosa faccio dopo fatto il test perché il test adesso lo farò su due cuffie monterò tutto l'impianto i due microfoni stereo i due autoparlanti poi metterò due cavi una a destra una a sinistra per rendere totalmente indipendente l'impianto l'impianto diciamo fonico o di registrazione e poi metterò una sorta di filtri passanti e metterò degli interruttori con dei potenziometri voi dite perché non vi spiego se io devo immettere una frequenza sonora per fare il test a un singolo individuo questo singolo individuo sarà tollerante o avrà sensibilità sonora differente da un altro individuo ma le frequenze che io metterò sono le frequenze del range audio che viene utilizzato per le analisi metiche audio vestibolari attraverso queste analisi metiche dell'audio vestibolare noi saremo in grado mettendo le frequenze medie quelli che ascoltano praticamente il 90 per cento 95 per cento tutte le persone avremo la possibilità di fare un test che questo test sarà utilizzato per il 95 per cento andrà bene per il 95 per cento tutte le persone voi dite perché all'altro 5 per cento non andranno bene se sono persone sorde se sono persone che non hanno problemi timpani o hanno i timpani bucati o se sono persone che praticamente non riescono a percepire sono sentono sono ipersensibili a determinate frequenze o hanno un udito più sviluppato ci sono dei ragazzi non vedenti che hanno un udito molto più sviluppato riescono a sentire e ad ascoltare determinate cose che noi non siamo in grado di sentire o ascoltare o se questo test viene fatto a un cane vi faccio un esempio il cane sente determinati suoni che noi non sentiamo e quindi questo test deve essere bilanciato su una fascia media di persone target individuali che vengono attaccate con determinati tipi di frequenze ovviamente noi avremo dei taratori perché se no la vittima dice ah io sento delle frequenze e poi non sarei in grado di registrare e no bello mio a noi non ce freghi vittima che viene a fare il test che dice io sento delle cose che il sistema non è in grado di captare non è così perché noi faremo le tarature in tempo reale i test in tempo reale metteremo dei potenziometri per aumentare e diminuire l'audio quindi noi sapremo perfettamente se te senti determinate frequenze o se non senti determinate frequenze perché viene tutto registrato perché tante vittime dicono ah si vede che io sento delle cose sensibili che non sono che voi non siete in grado di sentire e non è così e molte persone hanno fatto le registrazioni dentro le loro abitazioni non si sentivano i vicini che parlavano invece loro dicono no si sentono perfettamente i vicini che mi dicono delle parolacce andiamo a ascoltare le registrazioni non si sente niente quindi con questo sistema si potrà attestare che non sono i vicini che vi parlano in testa oppure che sentite i rumori delle persone che sbattono che fanno casino in continuazione perché questa tecnologia è in grado di registrare tutto quello che arriva all'interno dei vostri condotti udituri se invece usano l'arma d'attacco neuronica o infrasonica non passano dai vostri condotti uditivi ma passano dai vostri centi nervosi centrali quindi non possono essere i vostri vicini ad utilizzare un'arma del genere sono loro medici deviati dello stato mercenari che fanno dei testa esperimenti per chiararvi determinate torture chiamate la tortura del rumore che viene ovviamente sparata per la destabilizzazione delle vostre frequenze armoniche le fanno diventare destabilizzanti così voi avete in continuazione patologie, mal di testa, dolori in continui interrogatori, in continue frasi sparate nel cervello e loro si fanno i bei lavaggi del cervello e torture sparate nei nostri centi nervosi per effettuare determinati tipi di analisi, determinati tipi di test per la mappatura cerebrale allora io che cosa farò? prenderò questa cuffia, inserisco tutte le strumentazioni o inserirò tutte le strumentazioni, fate un po' voi tanto questi che manipolano la testa quindi non è che una parola, una frase o un test possa cambiare la mia deduzione o il mio progetto io farò la prova all'interno di questi paviglioni che cosa riusciamo a registrare, che tipo di frequenze riusciamo a captare perché io poi il test lo farò anche all'interno della stanza io metto un altoparlante all'interno della stanza, faccio partire un suono questo suono io lo percepirò all'interno dei condottori io dico sì, il suono lo sento, sia patiglione destro o sinistro, come volete voi allora adesso mettiamo la cuffia zonalizzata i suoni senti, destra e sinistra? no, non li sento più ok, allora, adesso facciamo partire invece dell'audio all'interno della stanza che te non senti più facciamo partire l'audio all'interno delle cuffie audio destra e sinistro mentre parte l'audio destra e sinistra noi diciamo, senti l'audio destra e sinistra? sì, e poi abbassiamo sempre di più i volumi e facciamo in modo di bilanciare l'audio in modo che le frequenze che voi sentite le dovete sentire perfettamente su tutti e due i condotti utitivi perché magari avete un orecchio che è più sensibile e un orecchio che è meno sensibile con la taratura del sistema non potete dire che voi sentite di più degli altri o meno degli altri perché noi tareremo in modo e in maniera che dovete sentire perfettamente i suoni con i stessi decibel sia nel pallione destro che nel pallione sinistro questi sono suoni per i test autovestibolari non facciamo sentire cose strane in più, una volta fatto questo noi registreremo dai microfoni che stanno all'interno di queste cuffie quello che noi vi stiamo i suoni che vi stiamo mettendo nei microfoni delle cuffie avremo un ritorno in modo che avremo la registrazione in tempo reale che voi state ascoltando questi suoni voi state sentendo scusate e stiamo registrando tutto a un certo punto che faremo? elimineremo l'audio e diremo ascoltate ancora i suoni? e voi direte no oppure direte sì se ascoltate i suoni non provengono dagli altoparlanti delle cuffie soniche ma provengono da il sistema di controllo e di manipolazione della mente al momento che voi praticamente incominciate o comincerete a dire ah noi sentiamo le voci di questi che mi parlano in testa mi stanno dicendo questo, questo e questo facciamo partire la registrazione dei due microfoni che tareremo prima di fare il test aumenteremo o diminuiremo la sensibilità dei microfoni per avere una registrazione pulita limpida senza nessun tipo di disturbo in più per ovviare a questo e non creare disturbi dei campi elettromagnetici o disturbi delle frequenze che potrebbero essere sparate dal sistema serenitare all'interno del nostro cervello io non metterò la scheda audio all'interno delle cuffie perché le cuffie dovranno essere neutre senza nessun campo elettrico all'interno o se avranno dei campi elettrici dovranno essere con elettro di continua allora vi prenderò due cavi separati e li farò arrivare all'interno della scheda audio la scheda audio dovrà registrare e inviare dei suoni all'interno dei padiglioni avremmo dei filtri passanti avremmo delle schermature verranno fatte delle tarature verranno eseguite delle equalizzazioni e verranno utilizzati dei filtri per aumentare o diminuire durante i test che noi faremo determinati tagli di frequenza sonora o di frequenza di ascolto perché questo perché così noi in tempo reale possiamo vedere se la vittima veramente sta ascoltando le voci provenienti dai vicini o sta ascoltando quello che noi gli stiamo mettendo all'interno di sottofondo all'interno delle cuffie così avremo un test audio un test di registrazione dei suoni dei loro condotti uditivi e nello stesso tempo avremo un test dell'audio all'interno della stanza dei rumori e suoni all'interno della stanza e così avremo la possibilità di registrare l'esterno l'interno della stanza in tempo reale registreremo tutto non faremo vedere ovviamente magari il volto della vittima mentre faremo la registrazione perché noi porteremo la testimonianza tramite le televisioni le radio tramite i canali di youtube perché io sono un ricercatore e devo fare ricercatore inventore tecnico e devo far vedere quello che faccio le analisi test in tempo reale non come i charlatani abbiamo fatto facciamo e là facciamo e là non si vede niente di loro non fanno niente prendono su wikipedia le cose degli altri e poi dicono senti che cosa ci sono scritto qui senti che cosa dicono lì non si fanno così test un'altra cosa vi faccio vedere questo apparecchio sapete che cos'è questo apparecchio guardate facendo questo apparecchio qua vedete vedete bene questo apparecchio misura i decibel e i suoni all'interno di una stanza io metterò questo apparecchio all'interno di una stanza per misurare con un microfono vedete c'è un microfono poi metterò un filtro su questo microfono e misurerò il suono vediamo se si vede uno 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 io ho detto uno 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 non perché sono una persona malata di mente ma per farvi vedere la sensibilità di questo strumento all'aumento dei decibel dei suoni che provengono all'interno di questa stanza in più oltre a questo strumento metteremo degli altri strumenti che registreranno in tempo reale tutti i suoni all'interno della stanza io farò un test prendo la caramella la apro e vedo le varie registrazioni parliamo e questi si devono attivare per far vedere che i suoni stanno entrando all'interno dei nostri microfoni ovviamente questo test potrebbe essere utilizzato anche per un prossimo futuro con determinate collaborazioni anche per rilevare questo lo dico è solo un punto interrogativo è un progetto che io sto facendo per creare un gruppo di ricercatori relativi ad anomale frequenze o ad anomale sensazioni o frasi che potrebbero essere captate all'interno di determinati luoghi faccio un esempio potremmo utilizzare anche queste strumentazioni per vedere se realmente i medium rilevano delle frequenze provenienti magari da entità sopranaturali oppure potremmo usare questa strumentazione per vedere se i contattisti o le persone di adation le persone contattate dagli anieri veramente sentono queste voci all'interno dei loro condotti uditivi o se queste voci vengono simulate attraverso le strade ipnotici perché con questo test noi possiamo fare vari tipi di test e far capire alle persone che non vengono contattati dagli alieni durante la notte con l'abdashon io sto a casa sento l'abdashon l'abdashon che mi parla non testa io vi dico che molti contattisti che molti che vengono praticamente contattati dagli alieni che molti persone che sentono i fantasmi o che sentono i santi i demoni che gli parlano in testa in realtà sono solo vittime del controllo neurale attraverso tecnologie di manipolazione radiocognitiva come le vittime del 5G come le vittime elettrosensibili e gli uditori di voci vengono attaccati tutti con le stesse identiche tecnologie solo che a voi vi fanno credere che è il 5G fanno credere che sono alieni che sono dell'abdashon che sono gli alieni che vengono sulla terra ma risulta che l'alieno viene sulla terra e parla in cispatano che almeno non lo so io non l'ho mai vista una cosa del genere che ti viene praticamente l'alieno dall'altra parte della galassia viene sulla terra la notte vi si mette vicino e vi comincia a parlare di aletto bergamasco io non ho mai sentito una cosa del genere e purtroppo la gente ancora che ci casca dice oddio oddio l'alieno che mi parla in dialetto bergamasco mai sentita una cosa del genere questi fanno milioni di si fanno centinaia di anni luce per venire sulla terra e si mettono a attaccare persone a parlare in bergamasco una cosa veramente incredibile come quell'altra dice sono rimasta incinta perché gli alieni mi hanno seviziata durante la notte fanno vedere la fotografia del bambino che è nato era un coniglio era un coniglio avevano preso un coniglio da un supermercato e avevano fatto vedere questo coniglio e avevano detto guardate guardate l'alieno che è nato dal mio corpo la gente ancora è che da queste stupidaggini quando arriveranno veramente gli alieni sulla terra sarà come Independence Day sarà come i visitors vedremo l'astronave madre che si avvicina o le astronave che si avvicineranno al pianeta terra avremo delle interferenze elettromagnetiche interferenze dei campi stabilizzazione delle frequenze radio avremo degli oscuramenti o il radar da terra o il radio telescopi sentiranno perfettamente le astronave che arriveranno vicino alla terra centinaia e migliaia di radioamatori avranno centinaia dei disturbi avremo disturbi con tutto con la corrente elettrica con le frequenze radio con le trasmissioni tv da tutte le parti e in più avremo centinaia di persone che fanno astrofotografia oppure che hanno le telecamere puntate nel cielo tutte le notti attraverso i loro telescopi che vedranno l'avvenimento in tempo reale che arrivano via le frequenze delle luci ci parlano bergamasco e poi se ne arrivano via ti vengono a trovare fra un mese fra un mese ritornano quelli stanno a letto se sentono arrivare l'ambergamasco e poi se ne arrivano via cioè la gente crede a queste cose io credo che esistono gli UFO e gli alieni lo credo perché esistiamo noi non è possibile che l'unico pianeta nell'universo che praticamente ha la vita ma che addirittura che tutti i giorni vengono da noi addirittura con miniastronavi che sono droni che volano no ma ma te stai scherzando ma quello era l'alieno ma qual era l'alieno che era un drone si è visto delle buste dell'immondizia che volavano in aria hanno fatto le fotografie avevano detto che erano dell'astronavi che stavano altissime nel cielo ma guardate che strana concilenza cioè possiamo fare con i telefonini filmati in 8k e possiamo addirittura con delle telecamere fare filmati in 16k e possiamo fare fotografie fino a 100 megapixel anzi con determinate macchinette fotografiche fino a 250 megapixel e noi tutte le fotografie facciamo tutte sfocate che non si vede niente e addirittura si suoni tutti disturbati però quando facciamo i selfie quando facciamo i video sulla spiaggia tra i mici quando facciamo tutte quelle buffonate dei video che poi mettiamo su tutti quanti i canali 4k e si vede tutto benissimo fotografie 100 megapixel si vedono benissimo 50 megapixel si vedono benissimo però gli alieni e l'astronavi tutte sfocate che si vede tutto male non avete capito che sono bufale no? no non l'hanno capito allora noi con i test che noi faremo e ci sono vi posso dire un'altra cosa ci sono dei veri ufologi che studiano veramente l'ufologia ma a livello tecnico e scientifico e si basano come il pianeta terra si è formato come l'evoluzione della nostra specie si è formata e si basano che la stessa evoluzione che abbiamo avuto noi sia la stessa identica evoluzione di altri pianeti in altri sistemi solari gemelli al nostro non tutte le sere quelli di luce i plasmatici la quarta dimensione la quinta dimensione la sesta dimensione ma qua ma quale come le vittime del controllo mentale molte di queste persone vengono manipolate per fargli credere che la terra è piatta ma in realtà il messaggio è che stanno appiattendo le frequenze della terra per il controllo mentale e che stanno modificando le frequenze naturali della risonanza magnetica terrestre per immettere le frequenze di controllo mentale che vengono camuffate con la risonanza magnetica in modo che se qualcuno ha degli analizzatori dice ma com'è che ci stanno tutte queste frequenze che corrispondono a patologie cerebrali no non so patologie cerebrali questa è la risonanza di Schumann e ti hanno fregato hai capito? e ti hanno fregato senti le voci? no ma questi non sono sistemi di espionaggio che vengono utilizzati sulla popolazione per manipolare il nostro cervello no sei malato demente sei pazzo sei schizofrego la terra cava i popoli della terra cava nessuno ha pensato che la terra cava vuol dire che ci sono delle basi segrete sottoterra grosse come città dove vengono effettuati test sperimentazioni e collaudi di determinate tecnologie che potrebbero essere utilizzate queste tecnologie per creare una colonia sulla luna che io credo che già ci sia per creare una futura colonia su marte perché sottoterra le radiazioni diminuiscono e avremo delle scarmature che potrebbero essere naturali con frequenze che potrebbero essere tollerate dal corpo dell'individuo che vivrà permanentemente sia sulla luna oppure su marte voi dovete ragionare a livello logico non dovete ragionare deduzioni cose fantascientifiche eccetera 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 quindi ricapitoliamo prima cuffia insonorizzata metteremo i microfoni gli altoparlanti e faremo i test collegheremo canale destro canale sinistro per creare una cuffia stereofonica che dovrà analizzare e registrare determinativi di frequenze le faremo arrivare a una scheda audio usb perché la scheda audio usb è filtrata da tutti i suoni che potrebbero essere creati dal pc dai campi elettromagnetici dai disturbi che potrebbero crearsi intorno alla stanza mentre noi stiamo facendo le analisi o mentre la persona viene attaccata con le armi ad energia diretta ronde con vogliate noi saremo in grado di filtrare determinate frequenze e poi se le frequenze filtrate vengono disturbate vuol dire che l'attacco con l'arma magnetica che interagisce all'interno di tutta la nostra registrazione e di tutte le nostre strumentazioni che noi metteremo all'interno della stanza stessa utilizzeremo questo misuratore di decibel per far vedere che noi stiamo utilizzando questo misuratore uno 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 il misuratore funziona perfettamente poi io lo tarerò con uno strumento per far vedere praticamente che la taratura sia stata fatta correttamente ma noi utilizzeremo anche altri di taratori di frequenze e utilizzeremo anche un analizzatore di frequenze audio perché noi stiamo registrando le persone che parlano attraverso i muri alle vittime del controllo mentale e noi abbiamo detto alle vittime che non sono i vostri vicini che parlano attraverso i muri quindi se simuleranno questi suoni noi ce ne accorgiamo o ce ne accorgeremo subito in più dovrò vedere se riesco a creare delle schermature efficaci per questo tipo di cuffia utilizzerò questo tipo di cuffia e metterò tutte le strumentazioni per fare l'analisi all'interno di queste cuffie e se queste cuffie non vanno bene utilizzerò quest'altra perché voi dite perché noi dobbiamo avere la schermatura la schermatura totale o almeno una schermatura all'80% dei suoni provenienti dall'esterno nei nostri condotti uditivi perché se io ti metto queste cuffie e te non senti le persone che parlano all'interno della stanza vuol dire che non puoi sentire le persone che ti stanno parlando attraverso i muri attraverso le case attraverso i paesi le città o attraverso le regioni perché tante persone dicono non è possibile il mio cugino che sta a Milano che mi parla in testa con queste tecnologie e noi diremo non è possibile questo perché all'interno della stanza noi stiamo registrando e non sentiamo niente e non viene registrato niente ma può essere che non viene registrato da un microfono da due microfoni ma quando noi utilizziamo 4-5 microfoni su queste registrazioni siamo in grado di registrare tutti i suoni test tutti i suoni per la taratura delle cuffie soniche vuol dire che se le cuffie soniche registrano e captano i suoni provenienti dalla stanza e te capti i suoni provenienti dalla stanza ma non capti i suoni delle frequenze provenienti dall'esterno vuol dire che te non stai ascoltando i suoni della stanza o i suoni dei vicini vuol dire che stai ascoltando dei suoni immessi nel tuo cervello attraverso delle tecnologie che operano con le bande di frequenza o con le bande di frequenze delle frequenze soniche attraverso l'attacco con arma di energia diretta o arma psicotronica o arma neuronica infrasonica e biofotonica un'altra cosa voglio ricordare io sto progettando un altro test ma questo test verrà progettato su un manichino diciamo questo test farà vedere perché dovrò utilizzare un laser visibile non posso utilizzare un laser invisibile una trasmissione laser invisibile e farà vedere come i nostri occhi possono captare determinati tipi di suoni perché la luce penetra all'interno dell'occhio l'occhio trasforma la luce in impulso elettrico e lo manda al cervello io non posso mettervi un laser dentro gli occhi e poi mettere determinate frequenze o fare determinati test per mandarvi al cervello determinati tipi di suoni o determinati tipi di flash di luce perché potrei danneggiare le vostre retini gli occhi potrei danneggiare i vostri occhi perché il laser deve essere visibile perché si deve vedere dentro la stanza mentre stiamo facendo questo test e io vi farò vedere che questo manichino come il laser entrerà all'interno degli occhi artificiali che io creerò all'interno di questa di quest'altra mia invenzione voi sentirete dei suoni provenienti proprio da questo fascio di luce da questo laser e direte ma come è possibile lui non sta utilizzando delle dei cavi elettrici non sta utilizzando delle frequenze radio ma sta utilizzando delle frequenze di luce così capirete come determinati attacchi determinati disturbi determinate frequenze vengono sparate all'interno del vostro cervello attraverso le frequenze di luce poi faremo un altro test ancora come l'arma neuronica spara le frequenze dei vostri centi nervosi voi dite come lo fa il test con l'elettro encevalografo e vi faremo vedere come funzionano questi trattivi di attacchi e di manipolazioni io sto preparando il tutto ma io chiedo solamente una cosa qualcuno di voi ha mai pensato ma come fa lui ad acquistare tutte queste attrezzature come fa a fare tutti questi test tutto il tempo per aiutare tutte queste persone eh come faccio come faccio come faccio qualcuno qualcuno dona determinate attrezzature qualcuno ci aiuta economicamente io non chiedo i soldi alle persone io chiedo solamente alle persone di iscriversi all'associazione e se volete potete fare delle donazioni per far sì che queste strumentazioni e questi test e questi ehm analizzatori e strumenti professionali che a noi ci servono per fare queste analisi tecniche per rilevare questi tipi di frequenze che questi tipi di frequenze potrebbero essere d'aiuto per gli elettrosensibili per gli utitori di voci per eh eh persone che eh target individuats possiamo aiutare le persone che vengono irradiate attraverso l'inquinamento elettromagnetico o attraverso i mal di testa fortissimi causati da questi campi elettromagnetici che entrano nella vostra abitazione o che vengono amplificate determinate frequenze possiamo con un analizzatore di spettro individuare i punti di amplificazione di questi segnali e possiamo fare dei vari test sia interni esterni all'abitazione e sia effettuare determinati test mirati all'interno delle vostre stanze di casa per poter eliminare tutto ciò che vi potrebbe creare dei disturbi e dei malesseri che destabilizzano le vostre frequenze armoniche durante la fase del sonno REM e durante la vostra il vostro praticamente il vostro rilassamento armonico all'interno della vostra abitazione cioè noi facciamo diventare oppure i test che noi faremo fanno diventare le vostre case armoniche perché con i disturbi e le frequenze diventano disarmoniche voi state sempre male avete sempre patologie avete sempre disturbi e un indomani progetteremo la casa antiradiazioni e chi avrà la possibilità oppure qualcuno mi dirà guarda sto ristrutturando casa vorrei creare una schermatura all'interno di una stanza e crearla con determinati accorgimenti per bloccare i campi elettromagnetici della corrente elettrica in alternata allora lì si potrà fare un progetto con un'analisi dell'ambiente un'analisi delle frequenze esterne e interne dell'abitazione per cercare di armonizzare naturalmente tutte le frequenze naturali provenienti da determinati campi di tecnologie che vengono utilizzate per la quotidianità dei nostri delle nostre faccende all'interno della nostra abitazione e queste ovviamente frequenze possono essere eliminate totalmente per darvi sollievo ovviamente se venite attaccati con i satelliti ne posso andare a spingere il satellite ne posso spostare il satellite se avevo il potere di fare questo avrei salvato la nazione italiana avrei salvato l'Europa avrei salvato tutto il mondo intero ma purtroppo le agenzie sopra istituzionali hanno un potere economico perché sottraggono i soldi dalle casse dello Stato e quindi hanno soldi illimitati miliardi illimitati per poter fare spionaggio e contro spionaggio su di noi target e limiti al vittimo e contro la mentale e sanno tutti i nostri punti deboli io perché pubblico questa mia ricerca perché ci sono stati dei charlatani che hanno detto che io non faccio niente dei charlatani che io non sono un ricercatore che io non sono un tecnico io sto progettando questo ovviamente c'è voluto tempo per fare queste progettazioni perché devo fare dei studi delle analisi dei test e ancora sto facendo studi analisi e teste se ero un charlatano mettevo due microfoni due altoparlanti mettevo due due fogli di carta straniola ve li mettevo in testa e vi mandavo in giro e tutti che vi prendevano in giro dicono guarda questi che credono a questo credono a quest'altro no perché le persone che mi ascolteranno le persone che ci potranno contattare nelle radio e nelle televisioni le persone che ci potranno che potranno interpellare la nostra equip la nostra equip tecnica scientifica dovranno confermare la nostra ricerca dovranno confermare le frequenze che noi captiamo all'interno di queste cuffie e dovranno dire è vero il test che state facendo serve per registrare questi tipi di suoni che penetrano all'interno dei vostri condotti uditivi e circondano oppure circondano la persona che viene praticamente sottoposta a questo test perché se noi poi abbiamo delle persone che dicono ah no questi captano altre frequenze non è vero non è così non è così e no noi facciamo la taratura in tempo reale registriamo tutto mettiamo gli analizzatori mettiamo il microfono ambientale abbiamo un microfono che capta i decibel quindi qualunque cosa si muoverà all'interno della stanza qualunque rumore era captato da determinati tipi di segnalatori o da determinati tipi di microfoni addirittura microfoni a condensatore che riescono addirittura a captare una mosca che riescono a captare delle caramelle che vengono praticamente aperte all'interno della stanza dove noi faremo questi test e non potranno dire no avete captato quello o avete captato quell'altro potrebbe essere che un indomani capteremo queste strumentazioni perché voglio creare altri tipi di strumentazioni invece di metterli all'interno delle cuffie utilizzarle ambientali per captare dei suoni provenienti anche dallo spazio o captare dei suoni provenienti dai nostri elettrodomestici perché le frequenze elettromagnetiche o bobino trasformatori o frequenze radio emettono dei suoni e noi saremmo in grado di registrare queste frequenze e questi suoni che potrebbero essere sparati nei vostri condotti uditivi attraverso queste tecnologie di controllo e di manipolazione mentale che ovviamente vengono camuffate queste tecnologie come patologie naturali del nostro corpo e del nostro cervello voglio ricordare le mie mail vittime del controllo neurale coach.gmail.com il mio nuovo canale di facebook emiliano babilonia italia canale pubblico tutti vi possono dire amicizia potete scrivermi su messenger emiliano babilonia italia e potete commentare iscrivetevi al mio canale di youtube angelicustodiamk scienziati ricercatori ricercatori generali militari vittime del controllo mentale ospiti importanti di fama nazionale e internazionale quando ovviamente finirà questa specie di seconda terza quarta fase ci daranno la possibilità di poter fare una conferenza ovviamente in totale sicurezza tutti quei mascheri e tutti quei guanti se sarà necessario e poi a luglio a fine luglio cercheremo di preparare il famigerato il famigerato target individuals dei 2020 ovviamente se riusciremo a fare l'evento all'interno di una sala conferenza lo faremo se non ci riusciremo lo faremo tramite tramite Skype Messenger insomma in diretta in diretta web oppure farò vedere solo degli ospiti e faremo la registrazione in diretta e le persone poi potranno interagire e praticamente intervenire anche da casa per fare delle domande ai nostri ospiti o relatori io sto facendo tutto questo per aiutare le persone molte persone mi aiutano ma altre vogliono tanto aiuto ma non aiutano nel nostro gruppo e né quello che noi facciamo e quello che noi vogliamo fare io vorrei io vorrei ho un progetto un grosso progetto creare una comunità all'interno di una sorta di fattoria una sorta di casale con un terreno circostante e creare e creare una comunità per aiutare i target individuals per aiutare gli uditori di voci per aiutare gli elettrosensibili per aiutare le vittime al controllo mentale e per aiutare tutte le persone che vengono attaccate e mirate con queste armi e con queste tecnologie di controllo di espionaggio ma purtroppo ci vogliono dei soldi e tanti soldi per creare questo perché bisogna creare delle stanze di battito stanze riunioni stanze antiradiazioni stanze di aiuto e di supporto morale dobbiamo creare anche la possibilità di avere una energia energia naturale potremmo utilizzare i pannelli solari fotovoltaici o leonico con le pale potremmo utilizzare il geotermico perché la comunità dovrà essere totalmente autonoma dal sistema per avere determinate tipi di frequenza o determinati tipi di energie o correnti alternative naturali in modo che noi dovremmo vivere in totale con la tecnologia ma nello stesso tempo utilizzare la tecnologia con tutto ciò che è frequenze naturali in modo che le persone che verranno a far parte di questa comunità che io vorrei creare abbiano la possibilità o devono avere la possibilità di stare bene armonici senza sentire radiazioni frequenze se si vogliono collegare a internet non si collegheranno da dentro la comunità ma si metterà una sala una sala una sala web una sala tecnologica distaccata dalla struttura dove le persone potranno entrare nella sala tecnologica e magari collegarsi a internet o poter telefonare o poter interagire con altre persone perché la struttura che voglio creare deve essere totalmente senza tipi di radiazioni provenienti dall'esterno a limite ci potranno essere radiazioni naturali oppure se dobbiamo utilizzare determinati tipi di frequenze o tecnologie wifi internet e altri tipi di corrente elettrica dovremmo avere delle linee preferenziali che verranno attivate solo nel momento che ci servirà di attivarle in modo che tutta la struttura dovrà avere un collegamento elettrico in corrente continua con pannelli solari con batterie che dovranno alimentare la struttura autonoma l'acqua calda la possiamo creare mettendo dei bei barili di plastica delle belle contenitori di plastica di verniciamo di nero verniciamo tutta quanta la parte esterna di nero che cosa succede? che il sole surriscalda questi barili e noi avremo l'acqua calda naturale che è una cosa differente dall'acqua calda elettrizzata o con ovviamente pure le caldaie a gas potrebbero essere utilizzate però noi vogliamo avere l'acqua calda naturale che proviene praticamente dal sole che ci deve dare energia armonia poi creeremo dei grossi spazi dove potremo piantare delle verdure biologiche delle piante biologiche degli alberi biologici in modo che noi ci potremmo mettere sotto questi alberi intorno a questo terreno per fare anche le nostre attività le nostre ricerche i nostri studi e i nostri test e vedere come le persone cambiano tra essere cioè come le persone cambiano all'interno delle loro abitazioni quotidiane e come cambiano quando vengono in queste strutture antiradiazioni se poi la struttura antiradiazioni che viene attestata con determinate frequenze anche noi che siamo sensibili a determinate tecnologie armonizzano i nostri le nostre anime le nostre armoniche che le fanno diventare armoniche naturali armoniche sincroniche uno con l'altro con la felicità il benessere il stare bene tutti quanti insieme nel gruppo di ascolto e d'aiuto morale avremo la possibilità dopo di cominciare a lavorare a livello tecnico a livello scientifico a livello artistico a livello fotografico per poter creare attraverso la nostra ingegnosità le nostre idee il nostro modo di esprimerci a livello artistico a livello di scrittura a livello anche di cinematografia per effettuare dei documentari all'interno di questa struttura e poi portare tutto all'esterno perché noi da soli veniamo considerate vittime del controllo mentale noi uniti tutti insieme veniamo considerati la resistenza la difesa dallo stato deviato sopra istituzionale perché tutti quanti insieme possiamo aiutare tenendoci per mano da soli non possiamo rimanere ci dobbiamo tutti quanti unire al gruppo o all'associazione di Roma per poter cercare di capire interagire apprendere e cercare di sviluppare un'energia positiva che deve combattere questo regime di potere di spionaggio militare che viene utilizzato sui target individuals in questi giorni incomincerò a fare i test e le prove della cuffia sonica come ci saranno dei sviluppi o come troverò delle soluzioni efficaci dopo effettuato determinati test farò farò un nuovo video e dirò i sviluppi come stanno andando avanti se riusciamo a fare i primi test io poi proverò la cuffia farò la registrazione oppure faremo una diretta e faremo il test in diretta solo che poi ci saranno le agenzie deviate sull'istituzione ci bloccheranno la diretta quindi preferirò registrare determinati eventi dei test che io farò con queste cuffie poi dei test che in caso faremo anche con i target individuali con le vittime controllo mentale o con gli uditori di voce o con gli elettrosensibili eccetera 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 per poter far vedere alle persone come queste cuffie analizzano determinate frequenze che entrano nel nostro cervello o che entrano nei nostri condotti uditivi o che potrebbero entrare attraverso i nostri occhi ma la cuffia è una cuffia creata per far capire alle persone che non sono i vicini che ci parlano attraverso i muri e che noi non siamo in grado di sentire attraverso i muri o attraverso gli appartamenti o attraverso i villi o attraverso i palazzi o attraverso città perché queste persone ci simulano in testa queste patologie solo per farci sembrare dei pazzi dei malati di mente e di schizofrenici per farci mettere il marchio della bestia malati di mente in TSO noi non siamo malati di mente e non dobbiamo essere portati in TSO perché noi siamo solamente delle cavie umane sotto esperimenti di controllo e di manipolazione mentale un saluto a tutti cari amici del ricercatore indipendente Emiliano Babilonia unitevi al mio gruppo di Roma perché tra un po' chiederemo gruppi regionali e anche voi aiuterete le vittime che vengono sottoposte a questi trattamenti disumani così creeremo una grossissima comunità nazionale per effettuare il più grosso aiuto alle vittime che vengono sottoposte a questi trattamenti disumani e faremo sì di rinforzare la loro capacità mentale la loro capacità di interazione e la loro capacità di bloccare questi esperimenti atroci che vengono fatti sulla nazione italiana sulle persone all'interno della nazione italiana un saluto a tutti amici grazie